In questa mia conferenza vorrei parlarvi di un fenomeno abbastanza serio e importante, che è il fenomeno del randagismo canino in Sardegna. Prima di tutto è opportuno fare un'analisi del problema. Il randagismo è alimentato per il 50% dai cani rurali, ovvero dai cani dei pastori e dei cacciatori, che puntualmente ogni sei mesi fanno figliare i propri cani e che abbandonano i propri cani una volta che hanno terminato il loro ciclo lavorativo. L'altro 50% del randagismo è alimentato dalle mancate sterilizzazioni. La sterilizzazione è una pratica molto diffusa nel nord Italia, mentre invece incontra notevoli difficoltà al sud, sia per una questione culturale sia per una questione economica. La sterilizzazione è il punto cardine della lotta al randagismo. Sarebbe anche opportuno parlare delle caos... scusate ma è un problema che mi vede coinvolta personalmente per cui ho qualche difficoltà a parlarne in maniera pacata. Ci sono molti problemi legati al randagismo, uno dei quali è l'incolumità pubblica, infatti molti incidenti stradali vengono causati a causa dei cani vaganti. Il randagismo costituisce anche un problema sanitario, in quanto molte malattie vengono trasmesse dai cani vaganti, dai cani randaggi, soprattutto esiste in Sardegna una malattia che si chiama echinococcosi, che viene trasmessa dai cani provenienti dagli uvili. Il randagismo è un grosso problema economico anche, in quanto le spese legate al randagismo, essendo un problema sempre più diffuso, sono sempre in aumento e sono costantemente a carico dei comuni e delle ASL. Non ultimo è un problema etico, infatti questo fenomeno non fa altro che dare un'immagine negativa del cane stesso, causando in questo modo degli atti di maltrattamento e di crudeltà nei confronti dei cani randaggi. Come viene gestito in questo momento il randagismo? Allora, la responsabilità dei cani randaggi è dei comuni e delle ASL. In realtà il problema è gestito in maniera abbastanza, come dire, emergenziale, nel senso che non esistono veri e propri progetti che possano guardare ad un futuro in cui non ci saranno più cani randaggi. Il problema è gestito costantemente, giorno per giorno. La maggior parte, diciamo che i comuni e le ASL affidano quasi esclusivamente la soluzione di questo problema ai canili privati. Cosa possiamo fare in tutto questo? Allora, noi cerchiamo di proporre un modello alternativo a tutto ciò. Allora, noi siamo una cooperativa sociale di tipo B, abbiamo circa una decina di soci, abbiamo però una rete di volontari, di circa 50 volontari, che operano sul territorio. Ci distinguiamo noi, come tante altre associazioni che nascono spontanee nel territorio, perché abbiamo la passione per gli animali, perché pensiamo di fare questo tipo di attività spinti comunque dall'amore per i cani. Allora, vorrei spiegarvi la differenza tra l'arrivo di un cane in un canile privato e in un rifugio gestito da volontari. Allora, in un canile privato il cane arriva, dietro segnalazione del comune o della ASL, arriva con la calapiacani. Significa che si fa di tutto per catturarlo nel territorio, con metodi anche un po' coercitivi, dopodiché arriva in un canile. In questo canile viene messo in quarantena. Ciò significa che vedrà un operaio una volta al giorno, che gli pulirà il box, che gli darà da mangiare e basta. Questa è la sua vita, fino a che qualcuno forse, forse, non andrà ad adottarlo. L'adozione di un cane in un canile privato è un'operazione abbastanza semplice, perché basta presentarsi in un canile privato, avere un documento di identità e ci si porta via il cane. Nessuno fa i controlli pre-adozione e nessuno fa i controlli post-adozione. Quando noi associazioni di volontariato che operiamo nel territorio invece ci occupiamo di un cane randaggio, in genere rispondiamo quasi sempre a una richiesta d'aiuto o comunque uno dei nostri volontari ha individuato il cane. Andiamo a cercarcelo in pratica, andiamo a cercarlo nel territorio, organizziamo una rete di volontari e ci prendiamo il cane. cercando di fargli il meno male possibile, ovviamente, nel migliore dei modi. Il cane in questo modo viene portato dal veterinario, viene valutato il suo stato fisico. Non sempre, quasi sempre i cani che troviamo sono affetti dalle smaniosi. Vi ricordo che la smaniosi è una malattia endemica che in Sardegna colpisce otto cani su dieci, mediamente. Dopodiché, insomma, fatti le analisi, prestate le prime cure, il cane viene trasferito in un rifugio oppure in stallo presso un'abitazione di uno dei volontari. Dopodiché, cosa succede? Allora, il cane viene recuperato sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista psicologico. Quasi sempre questi cani che vengono recuperati hanno delle fobie, sono stati maltrattati, insomma, presentano delle serie difficoltà a trovare una famiglia. Una volta recuperato il cane, tutti i volontari si prestano per potergli trovare una casa. Ciò significa che gli si deve trovare la casa più adatta a lui. Perciò, prima di consegnare il cane ad una famiglia, vengono fatti tutti i controlli per affido e successivamente, una volta consportato il cane presso la famiglia, perché noi lo portiamo presso la casa in cui dopo andrà a vivere, dopodiché verranno fatti tutti i controlli post affido. Così si conclude l'adozione, che è nettamente diversa da quella che si verifica presso un canile privato. Il canile privato, in genere, prende per ogni cane che accoglie presso le proprie strutture una media di 3 euro, 3,60 euro al giorno. I volontari che accolgono i cani presso i propri rifugi non percepiscono nulla. Questo cosa significa? Significa che il 50% di questo fenomeno, sì, è a carico dei comuni e delle ASL. L'altro 50% è a carico dei volontari o comunque delle persone di buona volontà. In tutta questa serie di problemi, noi vorremmo fare una proposta. Pensiamo di poter avere una soluzione alternativa a quelli che sono gli standard attuali. Pensiamo che la soluzione al problema del randaggismo debba essere organizzata in una serie di azioni utili non a gestire il fenomeno come attualmente viene fatto, ma a risolverlo. La prima azione da compiere è quella di organizzare delle campagne di sterilizzazione a tappeto. A parte i cani che devono essere sterilizzati nei canini, sarebbe opportuno che le ASL provvedessero alla sterilizzazione gratuita dei cani ospiti dei rifugi privati, per esempio. Oppure provvedesse alla sterilizzazione dei cani di proprietà delle famiglie disagiate, per esempio. Un'altra soluzione sarebbe quella di sterilizzare obbligatoriamente i cani dei cacciatori e dei pastori. Anzi, sarebbe anche opportuno che venga definito un numero massimo di cani detenuti, sia da pastori che da cacciatori. Altra soluzione da applicarsi sempre contemporaneamente a tutte le altre, sarebbe indispensabile svolgere delle campagne di microcipatura gratuita per tutti i cittadini, presso ogni comune. Un'altra cosa da fare sarebbe dare degli incentivi a coloro che adottano un cane, ma non solo. Attualmente vengono dati degli incentivi a chi adotta un cane da un canile privato o da un canile comunale. In realtà sarebbe opportuno anche dare degli incentivi a coloro che adottano un cane, anche dai rifugi o comunque dai volontari che operano sul territorio. Altre attività potrebbero essere l'inserimento nelle scuole dell'educazione cinofila, obbligatoria. In questo modo si insegna ai bambini e ai ragazzi al rispetto per gli animali, ma anche al rispetto per l'ambiente. In tutto ciò sarebbe opportuno anche che le istituzioni tenessero più in considerazione comunque le associazioni che operano il territorio perché lo fanno in maniera volontaria e gratuita. Diciamo che in conclusione sarebbe opportuno che, a parte che mi auguro che questa mia conferenza sia servita a sensibilizzare le persone che l'ascolteranno, spero di essere stata abbastanza chiara e spero che si sia capito la passione con cui noi operiamo. Però mi auguro anche che le istituzioni siano più coinvolte nella soluzione di questo problema. In particolare ci auguriamo che la regione Sardegna possa stendere i prossimi piani regionali sulla lotta al randagismo considerando le associazioni che operano il territorio e che conoscono perfettamente le problematiche del territorio. Grazie. Grazie.